La svolta apparentemente positiva che avrebbe riportato il Partito Democratico di Barletta alla ragione, facendolo recedere dall'intenzione di far cadere l'amministrazione mandando a casa il sindaco Cascella, attende concreti riscontri che vadano oltre le dichiarazioni rese dal segretario regionale Lacarra. Bisognerà capire infatti se questa tregua è reale oppure il fuoco cova sotto la cenere. Una parola di chiarezza potrebbero dirla i due consiglieri regionali Caracciolo e Menea assenti agli incontri che avrebbero portato a questo pseudo chiarimento nonché alla conferenza stampa con la quale Lacarra, senza spiegare né il motivo della crisi né come è stata superata, annunciava che si era trattato sostanzialmente di uno scherzo, compreso la tragicomica richiesta di giunta tecnica e le dimissioni dei tre assessori frettolosamente raccolte e mai protocollate. Come abbiamo più volte già detto, la cartina di Torna Sole sarà il consiglio comunale che entro fine luglio dovrà approvare gli aggiustamenti di bilancio appena allo scioglimento anticipato della consigliatura. Sarà in quell'occasione che Lacarra dovrà dimostrare che le solite assenze giustificate da impegni istituzionali, familiari, personali non saranno considerate tali, ma ora anche Cascella dovrà fare la sua parte. Dopo la verifica e l'aggiunta politica fortemente volute proprio dal PD, paradossalmente la maggioranza è uscita non solo politicamente ma anche numericamente più debole. L'esclusione dei due consiglieri di sinistra unita Campese e Doronzo, il mancato ingresso dei socialisti e l'assoluta inaffidabilità di almeno quattro consiglieri che sono di maggioranza solo sulla carta rendono il numero legale fortemente a rischio in ogni seduta. Tre sostanzialmente le opzioni a disposizione di Cascella per ampliare il quadro politico, il recupero di Calabrese e Mazzarisi, ex consiglieri della lista del sindaco, opzione auspicata dai partiti, il ricoinvolgimento di Campese e Doronzo, soluzione preferita dal sindaco, l'adesione organica dei socialisti, soluzione che metterebbe tutti d'accordo. Per raggiungere lo scopo Cascella oltretutto a disposizione la nomina del nono assessore, quello alla cultura, delega che egli stesso sta mantenendo ad interim. Se poi preferirà restare sotto schiaffo di ogni capriccio o raffreddore non potrà lamentarsi. In tutto questo, come abbiamo già sottolineato, a pagare sono stati il segretario provinciale Cafagna e quello comunale Ferrara. La carra li ha commissariati prendendone il posto ed ora un po' alla spina anche egli può dirsi uno e Trino, segretario regionale, provinciale e comunale. Vedremo se dall'alto del suo prestigio politico saprà fare meglio dei defenestrati. Di barletta abbiamo già detto, ma anche a livello provinciale ci auguriamo di godere del suo acume politico per risolvere finalmente i problemi sui quali ha fallito Cafagna. Siamo certi che il nodo dell'elezione del nuovo presidente della provincia si scioglierà come neve al sole. Riusciremo a capire com'è possibile che a San Ferdinando ci siano consiglieri del PD in maggioranza e consiglieri del PD all'opposizione, che a Trinitapoli, l'unico consigliere del PD, è stato eletto con una lista schierata contro il candidato sindaco sostenuto ufficialmente dal PD. Capiremo se a Biceglie i consiglieri del PD sono due o sono diciotto, se sono tutti in maggioranza o sedici in maggioranza e due, gli unici eletti nella lista del PD all'opposizione. La carra, siamo certi, rigenererà un partito in molte realtà desertificato, consociativo e a cominciare da Andrea, rovinosamente sconfitto alle elezioni. Coraggio iscritti e militanti della BAT, perché allenire le vostre angosce a risolvere i vostri problemi, mandato da Emiliano è arrivato la carra, speravate nell'unto del Signore, dovrete accontentarvi dell'unto di Michelone.